Le amministrative avanzano e mentre a Lecce città si rifiniscono le candidature, in provincia i giochi delle alleanze sono alla stretta finale. Loredana Capone e Carlo Salvemini ufficializzano il loro ticket nella corsa a Palazzo Carafa e presentano il listone della sinistra, a sostegno della Democratica con il fondatore di Lecce 2012, capolista. Nessun simbolo di partito, anche se i candidati provengono dalla Federazione della Sinistra, la Puglia per Vendola, Selle e l'Associazione di Salvemini, ma semplicemente lo slogan, Lecce bene comune. L'obiettivo è quello di rafforzarlo ulteriormente e di offrirla come risorsa, come contributo di idee e di consenso all'intera coalizione e naturalmente a Loredana Capone. È stata una scelta che scommette sul futuro. Oggi si è parlato anche dell'ipotetico ticket sindaco-vicesindaco qualora il centrosinistra dovesse vincere. Ma lo abbiamo detto da sempre, Carlo è nella squadra di governo perché immaginiamo questo percorso comune come un percorso che possa motivare la nostra città verso il cambiamento, con competenza, con professionalità. Dall'altro lato del campo è previsto per domani l'incontro fra IOSUD e PDL dove si getteranno le basi per l'incontro fra Paolo Perrone e Adriana Polibortone. A rappresentare quest'ultima ci sarà il segretario provinciale Gerardo Filippo. Nella sede dei moderati e popolari invece Antonio Bucogliero ha presentato la candidatura di Luigi Melica che ha illustrato i programmi. Essendo da sindaco sarò obbligato a mettere le donne in giunta, però avrei voluto e vorrei fare di più, cioè inserire le donne nei posti chiave dell'amministrazione, non necessariamente la giunta, quindi le partecipate, le municipalizzate, l'istituzione eccetera eccetera. All'area centrista sembra dato in avvicinamento Gigi Rizzo, consigliere di maggioranza a Palazzo Carafa, già candidato con l'Udc e ora referente di Giovanardi nel PDL leccese che ha partecipato alle primarie del centrodestra lo scorso 26 febbraio. Ieri Rizzo è stato visto a pranzo con i vertici del partito dei Casini. Semplice occasione conviviale o riavvicinamento all'Udc che tradirebbe il patto stretto con il PDL prima dello svolgimento delle primarie? E' presto ancora per dirlo, ma non c'è solo Lecce nel grande calderone delle amministrative. Il vice coordinatore del PDL, Francesco Bruni, traccia le scelte negli altri centri maggiori chiamati al voto, dove il popolo della libertà sta schierando i gabellone Bois. A Casarano scende in campo Gianni Stefano, assessore all'energia, e a Galato ne si sta ragionando su un altro esponente della maggioranza di Palazzo dei Celestini, Livio Nisi. Situazione fluida invece a Galatina e Gallipoli, specie nella perla dello Ionio, dove il PDL e le Udc hanno flirtato a livello locale per un periodo, come dice l'onorevole Vincenzo Barba. Flirt interrotto dalla candidatura di Francesco Enrico, fortemente voluto dal segretario dello scudo crociato Salvatore Ruggeri, forse anche con il placete del PDL. Per collaborare, per continuare con il discorso politico che abbiamo intrapreso da qualche giorno fa, poi sospeso perché io ho di tutto opportuno far capire quali erano le anime dell'Udc, perché signori miei qua ci troviamo di fronte ad un caso emblematico, un caso inodito, di come la politica non segue l'indirizzo dei concittadini, della gente. Vincenzo Barba lancia il consigliere provinciale Totti di mattina, ma non scioglierla a riserva, lasciando intendere che i giochi sono ancora aperti. Ma i tempi sono ormai agli sgoccioli, pochi giorni ancora e tutti i pezzi dovranno trovare collocazione sullo scacchiere provinciale.